Nel cuore del Borgo Antico di Padula, a pochi minuti dalla Certosa di San Lorenzo, l'Hotel Villa Cosilinum rielabora l'archeologia di un passato maestoso, coniugandola con i comfort più moderni, per offrire ai suoi ospiti un soggiorno unico ed indimenticabile. Ambienti raffinati e sofisticati, splendide camere dai nomi evocativi e a tavola, fregiati i vini archeologici, arricchiscono l'insuperabile gastronomia tradizionale. Ogni particolare è concepito solo per il piacere dei suoi ospiti. Hotel Villa Cosilinum, a Padula, nel Vallo di Diano, per rivivere un incanto senza tempo.